Ecco come visitare il set della Sirenetta. Si trova in Sardegna, in particolare a Rena Maiori dove c'è proprio la spiaggia dove sono state girate un sacco di scene del film. Per entrare proprio nell'atmosfera però vi consiglio di partire da Rena di Matteo e fare questa passeggiata a lungomare dove già potrete riconoscere il percorso che fanno Ariel e Eric in carrozza. Il paesaggio è veramente mozzafiato e quando poi arriverete a Rena Maiori inizierete già a riconoscere un sacco di luoghi e di scogli che esattamente compaiono anche nel film. Potete proprio fare il confronto con le scene. Questo per esempio è il famoso scoglio di Ariel. L'atmosfera è veramente magica ma soprattutto vi consiglio di rimanere fino al tramonto perché lì davvero rimarrete senza parole. A un'ora da questa spiaggia si trova invece Castel Sardo. È stato invece il set del castello del principe Eric a picco sul mare. Io vi consiglio di visitare tutto il centro storico in particolare il castello dei Doria perché da lì avrete anche una bellissima vista a picco sul mare. Nel centro storico invece potrete trovare un sacco di terrazze da cui si vede esattamente il punto da cui hanno registrato le scene del castello dal punto di vista del mare. Entrerete veramente all'interno del film. Questo è un riassunto dei luoghi principali salvatevi il video e fatemi sapere se andrete anche voi.